La dichiarazione di sciopero degli ostetrici ginecologi rappresenta solo la punta di un iceberg che nasconde inquietudini e paure non confinate nei punti nascita, visto che nella graduatoria delle denunce troviamo anche i medici di pronto soccorso, gli oncologi, i chirurghi in genere e quelli ortopedici in particolare. Ad affermarlo è il segretario nazionale della ANAO Assomed, Costantino Troise, che commenta così l'annuncio dello sciopero delle sale parto. Oggi, continua Troise, le aziende sanitarie lasciano il medico sempre più solo. La campagna elettorale è l'occasione giusta per valutare la volontà dei partiti di trovare soluzioni strutturali non più rinviabili, senza le quali, aggiunge il leader della ANAO, la protesta fino ad oltre lo sciopero sarà generale. Grazie. Grazie.